Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di The Sims 4 della Carly Legacy. Sto riprendendo esattamente come ci eravamo lasciati l'altra volta perché ho detto chissà se erano fortuna con i pettegolezzi e lei con il sindaco stavano appunto scambiandosi i pettegolezzi. Però anche prima, per chi ha visto l'episodio precedente, Daisy stava scambiando pettegolezzi sempre con lei. Adesso cliccando su Daisy mi è uscito scritto, che a lui già ha dato l'interazione, chiedi pettegolezzi piccanti perché ormai noi con Daisy abbiamo amicizia, quindi non c'è bisogno, spero, di portarla al bar, perder tempo, ordinare, perché adesso lei me li dirà. Sì, me li dirà! Oh mio Dio, non ci credo, che fortuna! Essendo in rapporti buoni, capite ragazzi, cioè ci vuole fortuna per questa commissione perché se becchiamo uno dei nostri sim conoscenti con cui abbiamo una bella relazione ad ascoltare i pettegolezzi, subito ce li dirà. Invece quando non ci abbiamo amicizia, come quella volta che ho perso un sacco di tempo al bar, so dolori. Allora, essendo in rapporti buoni quanto basta da parlare apertamente, Daisy è più che felice di raccontare qualche petticolezzo piccante a Sebastian. Ok, quindi adesso posso andare a riferire i petticolezzi piccanti al sindaco. Oh, che meraviglia, mamma mia, grazie, suocera. Dove scappa? Vieni qui! E poi potremmo chiedere altre commissioni un po' in giro. Intanto al sindaco. Così io sblocco sempre le cose e andiamo avanti, ragazzi. Tanto, come ho detto, cioè Primerose è concentrata sugli obiettivi della seconda generazione ed è giusto così. Io in più le faccio fare cose e ok. Però con Sebastian mi sto sfiziando proprio nel vedere vita in campagna in generale. Quindi dolcetti, animali, fiere, insomma, stiamo facendo di tutto e di più. E veramente sono felice. Allora, ho sbloccato il motivo appunto a croce del padding dello Yorkshire Slurp. Latte al cioccolato, dopo tutto l'aiuto che Sebastian ha dato al sindaco di Finchwick, ha ricevuto in premio un'iscrizione al suo club della marmellata misteriosa con omaggio settimanale. Anche in una cittadina dove tu ti conosco tutti, ti accorgerai che ciascuno costituisce i propri segreti. Oggi hai però fatto luce su qualcosa di decisamente intrigante e di questo ti ringrazio. Ok. Ah, la pozzina di flortante, il latte al cioccolato, i semi di lattuga. Ah, noi abbiamo comprato la scatola del mistero da Agatha la volta scorsa. Apriamola adesso. Che ci ha dato dolcetti al cioccolato. Herb, il guardiano dei fiori. Un coupon della consegna alimentare gratuita. E questo vedo. Ci hanno dato una campanula. E ok. Ma l'iscrizione al club della marmellata misteriosa non l'ho capita. Comunque, telesportati qui. Usa. Niente, sono super felice. Lui deve andare in bagno, quindi ok. Perché April è arrabbiata? Vabbè. Comunque, vediamo quali altri commissioni ci dà il sindaco. Offri aiuto. Vi ricordo che questa commissione qui è quella di Agatha, ma purtroppo devo aspettare l'estate prossima per realizzarla. Perché nonostante io quest'estate, perché noi siamo in Atunno, no? Quindi l'estate è appena passata. Avevo i mirtilli selvatici nel nostro giardino. Li ho raccolti e messi in frighi, per loro non vale. Cioè, devo proprio farvi dire l'azione che io li raccolgo adesso dalla pianta. Ma adesso i mirtilli non crescono. Io ho letto che come stagionalità ha l'estate. E quindi, vabbè, uno qui non ci dà fastidio. Allora, mostrami quanto sai. Sto iniziando ad abituarmi alla tua presenza. E ormai saprei di certo orientarti tra le piante e gli animali di queste parti. Sai cosa mi piacerebbe vedere? Voglio che tu faccia sfoggio di tutto ciò che hai imparato. Pensi di poterlo fare? Vabbè, vediamo quello che vuole. Comunque ci dà parti per aggiornamento, semi di prodotti agricoli abnormi, fertilizzante e abbigliamento per animali. Mentre qui dobbiamo andare a dare il pacco. E vabbè, sì, dai, sono semplici. Facciamo questi, via, mi fido. Oddio, sto andando veloce. Grazie dell'aiuto, vabbè. Ok. Quindi, il latte dorato. Vabbè, però io ho l'uovo e il dolcetto dorato. Sì, il dolcetto dorato ce l'ho. Quindi posso dare il latte dorato. Poi ottieni il pacco del paese. Ok. Allora, Raul. Mi bisogna avere forza a giocare in pausa. Se no, poi si scappano. Chiedi il pacco del paese. Vediamo un po' se lui ha un pacco per me. No, lui non ha il pacco per me. Sara? Hai un pacco per me? Chiedi il pacco. No, lei non ha il pacco per me. Andiamo qui. Ce l'ha? Sì! Grazie! Grazie mille! Ok. E da un po' che mi porto in giro questo pacco. Blah, blah, blah. Ok. Allora vado di corsa un attimo a casa. E così proviamo a fare questo latte dorato. Eccoci qui. A primo rosto stava giocando a scacchi. Piccolino, tu devi andare in bagno, eh. Usa il vasino e poi vestiti. Sempre... No, vestiti un po' così. Mannaggia, non ti abbiamo mai visto con gli altri vestitini. Mannaggia, non ti abbiamo mai visto con gli altri vestitini. Porta qui Sebastian. Tu... Allora, dovevi dare delle cose su Plopsi. Lei spedisci su Plopsi. E poi... Ti metti qui e crei qualcos'altro. Allora, io ero arrivata come abbigliamenti. Stavamo facendo sempre questi... Maglioni... Questi qua. Sì. Da uomo. Ero arrivata al blu. Quindi vai al verde. Allora, fatemi vedere poi giusto una cosa. Perché il dolcetto dorato devo crearlo. Adesso che ci penso. Crea dolcetti. Ok, posso farlo. Serve l'uovo dorato. E poi marmellata di bacche mucca o miele. O miele. E noi abbiamo... I miele. E sì, perché noi in frigo abbiamo il miele. Apri. Perché marmellata di bacca mucca proprio non ce l'ho. Sì, abbiamo il miele. No, abbiamo anche la bacca di pianta mucca. Ok. E l'uovo dorato però era uno. Sì. Ok, va bene. Va bene così. Fai il dolcetto o bravo. Vieni qui da Clara Bella. Chiama da te. Tu stai facendo il maglioncino. Do bene. Mamma mia. Quante piante da fare volvere. Ma chi è che ha fatto il raccolto? No, ragazzi. Veramente io non ho fatto il raccolto. Ci siamo lasciati che ho detto che poi l'avrei fatto. Ma io non l'ho fatto. Ero in paese con Sebastian. In là sono rimasta. Ecco perché. Quindi vanno da soli nell'inventario di famiglia il raccolto? No, Chloe. Vabbè. Allora. Dai il dolcetto dorato. Vuole il latte, giusto? Non mi fate sbagliare. Sì. Ok. Il dolcetto dorato alla mucca garantirà il latte dorato. Vabbè. Invece di andare al paese la chiamo qui il sindaco. Accarizza Clara Bella e Mongi. Produzione seguente. Latte al miele d'oro. Quindi mi sa usate il miele. Non lo so. Non voglio sbagliare. Ma penso che abbia usato il miele. Poi, poi, poi. Qui crescerà un fuggo abnorme. Perché come vedete uno si è preso tutto il lotto. Così come l'anguria e la zucca. La lattuga invece ne vedo quattro. Oh, questa lattuga non riesco a farla a dolorme come dico io. Sollecita. Vabbè. Li ho fertilizzati, quindi stanno bene. Perfetto. Allora, chiamiamo il sindaco. Invita. Tu piccolino mettiti a giocare nella tua tenda. Gioca di fantasia. Ti vuoi anche divertire. Poi hai Claire l'orsetta. Quindi gioca. Tanto, come vi ho fatto vedere, lui con l'immaginazione è arrivato. Mancherà da massimizzare il pensiero. Ma non fa niente. Non fa niente. Allora, Sebastian, vieni qui che è arrivata. Chiama da te. Venga, venga. Guardi cosa le do. Intanto, consegniamo il pacco del paese. e poi il latte dorato. Ok? Sono stato bravo? Tempestivo? Sapevo che ce l'avresti fatta. Ho confidato in te fin dal principio. Hai davvero dimostrato di essere un membro prezioso della nostra piccola comunità. Cosa ci hai dato in cambio? Ce l'ha dato a noi. Ottimo. Comunque è uscito anche eccellente. Questo qua lo metto in frigo e ci parteciperemo alla prossima fiera dei latti. Perché quando ci ricapia di fare un latte al miele eccellente. Poi ci ha dato i semi di fungo un lampone un vestito per la volpe i due pezzi di aggiornamento e fettilizzante di crescita veloce. Vediamo se lei ok al momento non ha altre commissioni da darci. Perfetto. Quindi sono le 10 e 20 adesso si stiamo un po' i loro bisogni e qua c'è Basilio sì e ci rivediamo direttamente la prossima volta. Lei sta finendo qui il maglione ma che scena tenera con Cody ai suoi piedi e lui sta giocando tenenamente qui nella sua cameretta con la sua orzetta. Che bello! Ok ragazzi ci vediamo direttamente lì domani mattina. parentesi galleria volevo avvertirvi visto che me lo chiedete da tanto tempo che la casa di April Emanuel è in galleria eccola qui quando feci il piccolo rinnovo. Loro due sono in galleria infatti mi avete già commentato appena le ho messi e poi ho aggiornato in galleria anche i Robinson con Josi Teo e Jessica e Primo Rose e Sebastian con Peter ancora bebè. Quindi oggi è il compleanno di Peter e Jessica quindi si è fatta mattina sono le nove e mezza Peter sta parlando al papà della festa non vede l'ora di andare a festeggiare però l'ho fatto per fargli aumentare la socialità perché aveva bisogno di attenzioni quindi parla dei paladini abbraccia chiedi anche il perché ma poi lascia andare il papà perché io in giardino veramente avevo visto ecco una volpe però non sta facendo niente di che ronza intorno infatti è suonato l'allarme quindi è stato proprio l'allarme a cacciarla perfetto funziona la festa inizierà presto ovvero tramoretta quindi vabbè Sebastian goditi il tuo bambino e senti mettiti anche il vestitino da festa mentre Primrose finalmente spero che stai terminando il maglione perché lei stava confezionando dei regali allora per quanto riguarda ottimo l'ha fatto per quanto riguarda la nipotina quindi per Jessica oltre Claire l'orza e finalmente le daremo le ho fatto anche un maglione color crema e rosa mentre il nostro bambino gli ha fatto no grazie muoviti che alle 11 inizia la festa gli ha fatto il maglione per bambini grigio e blu e poi sinceramente abbiamo arredato la cameretta allora è rimasto più o meno lo stesso arredamento nel senso lui finché non diventa adolescente ha comunque una cameretta da bambino solo che adesso ha un nuovo letto bellissimo ha questo mobile perché comunque ha bisogno di spazio per riporre cose e sul mobile ha messo i libri la sua lampada notturna la foto con i genitori e lui sempre piccolo bebè di qui c'è il suo cagnolone e finalmente ha la scrivania su cui poter fare i compiti e scrivere perché la terza generazione riguarderà molto la scrittura e poi l'avventura poi c'è uno zaino sempre i libri visto che comunque inizierà l'elementari sulle mensoline la foto con la cuginetta quando sono carini e oggi si faranno anche un bel selfie altri libri e come giochino nuovo un cavallo e basta ho lasciato la tenda il puff la stufetta per riscaldarsi e l'armadio è questo qui perché comunque si vedono già scarpette vestiti zainetto un po' più da grandicello e quindi dai la cameretta è arredata ok dai penso che ce la faremo per un pelo e non festeggeremo la festa qui in casa ma andremo in un bellissimo lotto sempre qui a denfond o begley quindi è proprio un lotto perfetto tirami fuori quella torta da forno no non ci credo non ci credo no vabbè no mi serviva la torta quindi devo rifare l'evento allora intanto aggiungi le candeline così non rischi che te la mangi abbiamo fatto una classica torta al cioccolato perfetto e allora pianifica un evento sociale e andiamo direttamente lì pensavo di farcela invece no qui c'è un cagnolino ah sì perché se non mi sbaglio ho messo all'otto che è un rifugio per i cani in modo da poter andare avanti con l'aspirazione della povera Primrose quindi io anche quando non registro cercherò di perderci un po' di tempo quindi fare amicizia con questi cagni randaggi fino ad arrivare al livello di provare amore allora Peter ospiti siamo tutti noi con Josie Jessica Theo Daisy e Marron soltanto noi della famiglia e andremo penso che chi segue ogni video lo conosce questo lotto perché ne ho parlato in una partita sempre dedicata a vita in campagna però era una partita personale ovvero il giardino delle zucche siamo in autunno cioè direi che è perfetto festeggiare qui ed è una bellissima giornata calda un po' nuvolosa ma calda allora Jessica mi ha detto che non poteva stare nell'otto no no in vita nell'otto attuale poi magari vi faccio fare un tour veloce per chi non ha visto quell'aggiornamento nella partita personale però prima volevo aggiungere il tavolo per spegnere le candeline anzi usiamo il tavolo del locale perfetto proprio a tema e la pila di regali però io per far prima filtro sempre il pack di stagioni eccole qua così faccio veramente subito subito regalini misti sì mettiamoli qua che c'è bisogno di spazio così magari ci mettiamo pack di bebè due palloncini è una festa di compleanno eccoli qui e arancioni e blu piccoli se no non vengono in foto magari così anche qua anzi facciamoli di color diverso questi facciamo così e questi sul rosso e giallo ok allora velocissimo tour del locale ho creato questo ristorante che è palesemente un fienile proprio per restare in tema di campagna e mi ha ispirato tantissimo quando uscì appunto vita in campagna ha redato anche con tantissimi oggetti del debug qua di notte è bellissimo con queste lucine ci sono comunque tutti gli animaletti nello stagno questo qui è retro e perché ci sono due fenili perché in questo più piccolo è semplicemente dedicato alle attività ricreative però tipiche dell'autunno come vedete qui c'è tutta la zona dedicata all'intaglio delle zucche che possono farlo bambini adulti anziani tutti proprio tutte l'età possono divietirsi a ritagliare zucche il bello è che queste attività qui sono gratuite non si paga niente oppure si possono sedere a giocare a lama o a carte e da questa parte invece soltanto i bambini possono divietirsi a creare disegni sia a tema oppure in libertà ci sono balle di fieno su cui sedersi e niente è tutto molto a tema fuori c'è comunque un cavalletto se uno vuole fare un dipinto da un modello e dipingere questo angolo carino con lo spaventapassi le zucche che poi che peccato che qui sono piantate le vere zucche ma non sono cresciute poi avete la possibilità di fare una bellissima foto ricordo io l'ho provata infatti apposta col nuovo object ho messo i tre segna per terra molto vicini perché vengono delle belle foto poi c'è il chioschetto se mai uno vuole pagare assumere il venditore e comprarsi il prodotto tipico perché ho pensato che il ristorante ha appunto anche il negozietto visto che ha gestione familiare vivono appunto delle persone che vengono a mangiare in più di questo negozietto visto che le altre attività sono gratuite e vendono semi di giardinaggio i telai decorazioni da giardino insomma vendono queste cose qui c'è il bellissimo albero sempre altre valle di fieno funghetto come seduta l'altalena vedo un lama qui come giocattolo uno scivolo sempre per i bimbi più piccoli poi vedete le biciclette parcheggiate fuori perché a maggior parte qui vengono in bicicletta qua è bello perché le ruote poi funzionano è carinissimo dai come locale c'è uno spazio per mangiare fuori e sono tavolini piccoli massimo è da 4 poi dentro anzi dentro è bello entrare così anche dettagli fuori cioè guardate che bello mi sono sfizziata dentro è arredato in questo modo ci sono tavoli per tutti per 4 per 6 e per 8 perché per me nei miei ristoranti non possono mancare tavolate grandi per le mie famiglie decorazioni di zucchi ovunque visto che è il giardino delle zucche qui c'è il direttore di sala anche i vestiti sono molto a tema curati il direttore di sala è così cioè sulla sala opet ha questa giacchetta semi elegante ci sono credenze c'è il camionetto se uno si vuole sedere qui vicino al camionetto dettagli vabbè autunnali molto autunnali c'è la cucina anche a vista quindi si può vedere il dentro e anche la cucina guardate quant'è carina è molto rustica e sì dai bello e per questo voglio subito spegnere le candeline in modo da poter prenotare questo tavolo e anche i bambini si possono godere il pranzo le cameriere hanno questa divisa e quando arriveranno gli chef vi faccio vedere gli chef poi il bagno c'è questa anticamera comunque dove ci sono soltanto i lavandini decorato in questo modo e poi c'è il il bagnetto con il semplice butter così ve lo faccio vedere anche dall'alto eccolo qui come risulta il lotto lo trovate già in galleria ah e poi ecco arrivata anche Jessica visto che come vi ho detto ho usato tanto materiali del debug mi raccomando spuntate il materiale personalizzato posizioniamo la torta ok facciamoli venire tutti quanti qui vai qui insieme e poi iniziamo a mettere anche i regali almeno noi genitori aggiungiamo il dono ok oh che carini iniziamo dai facciamo che Sebastian fa soffiare le candeline a Peter e Prime Rose ha la nipotina vai con Peter voi non vi allontanate camminate qui insieme radunatevi ok perfetto oh come vi siete messi così oh va bene dai che c'è anche Prime Rose ah togliamo il Plum Bob carina si vede anche la cuginetta si vede le zucche dietro va benissimo tanti auguri piccolino vediamo un po' come cresci finitere passato dieta chi è qui la carriera no grazie allora lui mi è cresciuto come tratto bonus bebè felice perché comunque aveva tutte le abilità da bebè almeno di livello 3 vi ricordo che non sono riuscita soltanto con la logica perché altrimenti le altre erano tutte a livello 5 come tratti per quanto riguarda la terza generazione lui deve avere creativo testa calda e avventuroso quindi io metterò subito il creativo in modo che si vale anche la scrittura in questo caso e gli metto la motoria ok c'è questa cosa che lui sarà sempre un bimbo amante dell'aria aperta e del movimento però amerà tantissimo anche avere quei momenti in cui si chiude in questo caso nella sua cameretta a scrivere le sue storie e quindi c'è questa come posso dire discordanza questa non lo so come spiegarvelo però sì mi piace tantissimo aver fatto queste due cose esattamente all'opposto perché di solito uno scrittore uno solo immagina solitario sempre da solo chiuso nella sua stanza e invece no lui sarà sempre un tipo socievole amante delle avventure del movimento insomma così non so come spiegarlo direttamente fatemi vedere questo bambino intanto gli altri si divertono ma quanto sei carino io ovviamente resterò nello stile di vita in campagna cioè i ricciolini che teneva glieli lascerò sempre come capelli intanto i nonni hanno anche la cuginetta hanno inviato i regali per posta ok perché comunque se Bassan ha questo tipo di ricciolo mi piaceva il fatto che lui aveva preso dal padre allora facciamo spegnere le candeline anche a Jessica così poi Josie non si fa così poi continuiamo a festeggiare volevo solo dirti che ho seguito il tuo consiglio e ho scelto di non passare più tempo con Simona Fontana bravissimo Dominic così si fa dai venite che anche lei soffia le candeline oh quante bella che hai fatto piccolino vabbè così si vedono tutti non c'è la mamma però va bene vediamo lei come cresce ovviamente avrà un tratto random scelto dal gioco ma non fa niente quant'era carina vestita così da festa bellissima oh un bel caschettino oh mio dio ma che bel viso fatti vedere bene quant'è carina però gli sta bene questo caschettino vabbè vestita un po' un po' così magari oggi non faremo il selfie con la cuginetta cambio immediatamente il look a lui in modo che noi tre invece una bella foto ricordo ce la facciamo ed eccolo qui allora lui carinissimo veramente carinissimo c'è un viso molto simpatico poi questi capelli bellissimi comunque quotidiano formale sportivo da notte da festa costume da caldo ovviamente salopet e da freddo la giacca se vuole aiutare i giardini in campagna questa è proprio la salopet uscita con vita in campagna altrimenti un po' più elegantino con la maglietta uscita con vita in campagna quindi diciamo che lui ancora resta sulla tematica della mamma vita in campagna della seconda generazione poi diciamo che più verso l'adolescenza barra giovane adulto entrerà pieno nella sua terza generazione per chi non ha letto le regole magari ancora non vi sveglia nulla ve lo dirò man mano e rieccoci qui allora Sebastian lo mando subitissimo a chiedere un tavolo mentre Primrose viene a scattare la foto ricordo a Peter da solo mi aspetta il fotografo guardate che bello cammina qui e scatta la foto di un sim sul segna soggetti come si chiama e scattiamo la fotina mi raccomando guardate qui anche perché una bella foto ricordo proprio su dove ha festeggiato sul posto è bellissimo io trovo una cosa proprio carina poi guardate che belle pose che hanno i bambini questa è molto carina questa è molto da Peter non so perché ma lo vedo proprio così ok c'entra la faccio una piccola e una media perfetto poi aggiungo un sim a caso per fare la foto a noi tre tipo lei aggiunge la famiglia così tu ti metti cioè Peter avanti perché sei bassino Primrose mettiti qui e Sebastian dietro aspetta il fotografo scatta la foto di un sim sul segno per soggetti eccoci qua tutti e tre madonna che belli mi raccomando tu dai una bella foto eh c'è lo spaventapasseri vabbè adesso non si vede l'abbiamo coperto però a noi interessa il giardino delle zucche anche perché lui ha la foto con lo spaventapasseri quindi va bene oh bellissima questa Primrose vabbè guarda un po' di là però è bellissima così quindi ha sempre una piccola e una media e abbiamo anche questo bellissimo ricordo grazie mille allora dammi la foto l'uscita l'uscita straordinaria e straordinaria e ciao rimuovi dalla famiglia perfetto allora accomodiamoci quindi sediamoci tutti insieme e ordiniamo per il tavolo loro intanto erano qui a scegliere un po' il menù vedere le prelibatezze del posto il menù è molto a tema abbiamo come bevande anche i tè perché qui uno può venire anche a fare merenda o colazione quindi la bevanda spazia tra gassate per i bambini birre vinello e poi bevande calde il tè alle api il cappuccino il tè verde salutare il tè disintossicante al limone insomma cose molto a tema che vanno bene per il posto come antipasti il il pane alle carote il palding dello Yorkshire che è proprio del posto il pane al latte senza lattoso il pane a formaggio vellutata di zucca portate principali stufato di zucca poi ho aggiunto cose che vanno bene anche per i bambini come crocchette di pollo finta carne alla wellington perché cose anche adatte ai vegetariani parmigiana di melanzane sformato del pastore lo stufato finta carne purè zuppa di funghi piccanti e normali polpettone polpettone vegetariani salsiccia e purè e come dessert torta di miele biscotti spettrali se per caso uno viene come dire nei giorni di Halloween scone alle bacche scone alla zucca torta di miele torta alla frutta fatta in casa torta di carrube e cocco carote torta al cioccolato lamponi mirtilli e torta di zucca quindi mi sono divertita anche a comporre il menù allora bevanda gassata per jessica e peter e e si qui noi tutti beviamo il vino di great falls poi i bambini ma loro mangiano loro sono delle buone forchette si prendono salsicce e purè i bambini vanno di salsicce e purè mentre noi grandi potremmo mangiarci ecco tipo primrose e desi vogliono lo stufato di zucca parmigiana di melanzane per josi e zuppa ai funghi piccanti la vuole assaggiare marlon zuppa ai funghi normali per teo e per sebastian parmigiana di melanzane ah hai tu da bere anche tu questo perchè non non te lo sei preso ok adesso il menù è completo perfetto nel mentre aspettano loro il cibo i due bambini vengono ad aprire i doni di compleanno quindi facciamo appunto la cosa che sia per jessica che per peter ci sono regali la torta la mettiamo a tavola anche se desi ultimamente è golosa e si sta mangiando torte al cioccolato a volontà perché poverina io per tanti anni l'ho messa a stecchetto con il cibo salutare non ce la posso fare si sta ribellando allora si va benissimo jessica vogliamo aprire i nostri regalini grazie federica dai apri i regali con jessica su perfetto cosa abbiamo ricevuto una cosa che non ci piace un cubo del futuro sicuramente lo zio teo te l'ha fatto scusate l'ambulanza di sottofondo e poi ho un orso tanto amore i giocattoli ci piacciono sempre ma su queste prendo qui apri un dono un wispo hai capito per giocare vuoto mostri vabbè il cibo teo si è raffacciato per controllare i bambini non è arrivato e vieni a dondolare un po' sull'altalena dai chiedi di dondolare con jessica la festa intanto è finita livello d'oro anche se io non mi sono messa a fare tutte le interazioni ma ho fatto soltanto l'obiettivo principale però va bene così desi basta non è possibile basta ah però sta arrivando il cibo sta arrivando il cibo quindi venite venite bimbi su il cibo è pronto oh che bello sono tutti felici ma qui penso che si mangi benissimo adesso ho tolto il plumbo vabbè ma hanno tutti i piatti una bellissima faccia no vabbè desi basta ho questa torta vieni a mangiare mangia e bevi oh finalmente tutti seduti e facciamo una bella fotoricordo così si vede anche Jessica ok e poi da questo lato ah Marlon apri gli occhi ah no tu stai parlando con Jessica va bene e niente dai prenditi un pezzo della tua torta al cioccolato si è strafogato salsicce e purelli è piaciuto tanto mannaggia loro una volta che hanno bevuto c'è ancora questo bug nonostante i continui aggiornamenti che bevono ma non mangiano vabbè non fa niente comunque è stata una bellissima festa di compleanno no ah visto che la cena è finita darei il regale ai bambini quindi regalo amichevole abbiamo detto a Peter un bel maglioncino grigio e blu Jessica non scappare guarda mamma che ti ha confezionato l'ha fatto proprio lei con le sue manine comunque ridendo e scherzando sono fatta il 10 di sera ti è piaciuto si gli è piaciuto tantissimo sorpresa generosa che bello poi Jessica eccoti qui ah ecco perché vengono fuori vanno fuori a ballare dai regalo amichevole prima il maglioncino e poi il giocattolo vai guarda che bello che ti ha fatto la zia ti piace si e non è finita qua aspetta piccolina perché tu prima non ti ho visto avere i regali e hai un bel giocattolo eh si un altro regalo tutto per te oddio se Buster era in bagno ok allora io direi visto che abbiamo fatto davvero tutto di lasciarli andare la torta vabbè la lasciamo qui quindi termina il pasto e paga il conto così loro sono liberi di tornare a casa se è fatto tardi e io direi che invece noi tre eh restiamo un altro poco qui e eh con Peter oh qualcuno stava intagliando la zucca ci divertiamo appunto a intagliare zucche allora scatta l'intaglio lui verrà se bastano a fare una zucca sorridente arancione Peter mi farà la zucca ehm sghemba perché no arancione e eh la nostra prima rose che sta arrivando addirittura in bicicletta le faccio fare quella classica arancione perché è proprio il colore classico insomma delle zucche e le terremo fuori casa finché non marciranno proprio per avere un ulteriore ricordo di questa bellissima giornata qui direi che la festa è riuscita proprio bene comunque hanno mangiato bene si sono goduti questa bellissima giornata sempre in famiglia in un posto diverso comunque non sempre a casa quindi mi è piaciuto anche festeggiare fuori Desi che mi lascia fette di torta a cioccolato ovunque e con il fatto che io loro non potevo comandarli non potevo dire tipo a Peter che ne so disegniamo facciamo un disegno insieme oppure tagliamo la zucca insieme lo fa con i suoi genitori poi sono stata felicissima di avergli fatto quelle foto ricordo sempre qui e niente ragazzi io direi di salutarci così magari mi faccio un giorno da sola in cui ecco sistemo sempre la campagna sistemo cose con Sebastano vado a richiedere nuove commissioni da fare così gli faccio fare altre cose e poi ci vedremo nel prossimo episodio spero tantissimo vi sia piaciuto tanti mi piace i commentini ciao 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 Grazie a tutti.